Dividi il salone, integri il corridoio, tiri su due muri, monti il letto a forma di nave dei pirati e Marcolino finalmente è fuori dal lettone. Così almeno sperano loro. Noi lo sogniamo. Abbiamo bisogno di dormire. Un consulente Fiendomestic capisce le tue passioni e ti aiuta a realizzarle. Con il prestito flessibile Fiendomestic le spese accessorie sono azzerate e nella rata è tutto incluso. Così hai zero spese e zero sorprese. Entra in Fiendomestic. Grazie.